Ultima gara in programma nel girone A della Mediterranean Cup dopo le vittorie contro Seborga, Nizza e Sicilia si affrontano per stabilire a chi andrà il primo posto. Pronti allora a raccontarvi del film del primo tempo, maglia giallorossa per la Sicilia, total white per la contea di Nizza, subito a Usdi, il pallone finisce di un niente al lato della porta siciliana nazionale, siciliana che poi attacca per la prima volta nel match dopo un calcio di punizione, azione insistita, la deviazione sottoporta e quella vincente va nello 0-1 della Sicilia che adesso sarebbe prima in questa classifica e continua a spingere, qui incredibilmente non riesce con Pannuccio a trovare il gol del 2-0, punizione per la contea di Nizza, da distanza ravvicinata, il pallone rimane lì, ancora Usdi, prova a scartare il portiere, l'intervento in zona difensiva che chiude anche la prima parte di gara, 1-0 per la Sicilia fin qui contro la contea di Nizza, un vantaggio che ricordiamo potrebbe valere il primo posto nel gruppo A, partiamo però con il secondo tempo e subito contea di Nizza che prova a rimettere le cose a posto, qui esterno da distanza ravvicinata che termina a lato, continuano a spingere quelli della contea di Nizza e questa volta lo scambio è quello giusto e vale il gol dell'1-1, tutto da rifare con Usdi che lascia l'avversario sul posto, ancora Usdi, forza fisica incredibile per il calciatore con la numero 11 che fa 2-1, Sicilia rimontata e triplice fischio a Sanremo, la contea di Nizza si qualifica da prima in classifica, secondo posto invece all'esordio assoluto in un torneo per la Sicilia.